Quello con la Sampdoria è un match importante per noi. Dopo la gara con la Juventus che dobbiamo dimenticare la prima possibile. I bianconeri sono la migliore squadra che c'è in questo momento in Italia e dobbiamo concentrarci sulla prossima sfida per conquistare i tre punti. Sarà difficile ma noi sicuramente ci proveremo e daremo il 100% per battere la Sampdoria. Ogni giocatore vuole giocare più partite possibili. Il mio lavoro è quello di allenarmi duro e farmi trovare pronto ad ogni occasione. Sono felice del fatto che il mister mi abbia dato spazio fino ad ora e devo continuare su questa strada per giocare più partite possibili. Centrare la salvezza non sarà facile ma è sicuramente il nostro obiettivo e comunque credo che ci siano le possibilità per farlo. Se vincessimo la prossima sfida e l'Empoli perdesse saremmo a meno 5 da loro e riapriremo la lotta salvezza. A Palermo mi trovo davvero bene. È una bella città e il clima è fantastico. Non ho avuto molto tempo per visitarla a Palermo perché mi sono concentrato soprattutto sugli allenamenti ma devo dire che qui a Palermo si vive davvero bene. Mi auguro che i tifosi vengono in massa domenica allo stadio a supportarci. Abbiamo bisogno del loro aiuto per battere la Sampdoria e raggiungere la salvezza.